Non è la ICO essere in crisi, ma solo lo stabilimento di Alanno, impiegato nella produzione di tissue, materiale semilavorato per la produzione di carta igienica, fazzoletti e tovaglioli, fino al 2012 a pannaggio della Kimberley, che poi nel 2013 ha ceduto lo stabilimento di Alanno alla ICO. Dunque, lo stato di crisi che si è aperto ieri, dopo la riunione che si è tenuta presso la sede di Confindustria Chieti-Pescara in Via Reiale e a cui hanno preso parte i sindacati, con CISL, CGL e UIL, non riguarda l'intero gruppo, ma solo il settore produttivo di Alanno, dove 35 dipendenti ora rischiano di rimanere a casa, se entro i prossimi 45 giorni non si troverà un accordo tra le parti. A dare il colpo di grazia all'impianto produttivo di Alanno è stato l'aumento del costo dell'energia. Trattandosi di un'impresa altamente energivora, le cui bobine di tessuto di carta semilavorato erano destinate per lo più al mercato estero e in primis all'America, l'aumento dei costi di produzione e trasporto non è stato più sostenibile. E ora i sindacati chiedono al gruppo di farsi carico del futuro dei 35 lavoratori al momento in cassa integrazione, ricollocandoli negli altri tre stabilimenti produttivi della ICO dopo averli adeguatamente formati. Emilio Falleroni, segretario regionale della Wilcom. Ieri abbiamo avuto il primo incontro, l'azienda ha ribaduto l'esubero che ha il licenziamento che vuole mettere in atto e noi per contro chiediamo di risolvere la situazione in altra maniera. Molte sono le vie da percorrere. In primis si possono accompagnare alla pensione, ci sono un gruppo di persone che con i due anni anche della NASFIO potrebbero rientrare nel progetto della pensione anticipata. Dopodiché contiamo in un volontariato un'ultima analisi, farli riassorbire all'interno di tutto quanto il gruppo, anche perché non è che qui esiste una crisi della ICO e in essere una crisi del settore, di un settore particolare, quello dell'attiscio. Il tavolo è aperto e continueremo ad andare avanti sia a livello nazionale e sia magari andare davanti al MISA. Vedremo anche se è possibile poter usufruire del decreto aiuti che permetterebbe altre 12 settimane di poter avere la cassa integrazione, quindi di arrivare magari intanto alla fine dell'anno. Marco Giovinazzi, coordinatore della Fistel CISL per Abruzzo e Molise. Si tratta di 35 dipendenti che, dicevate, per lo più sono in quella terra di mezzo tra i 40 e i 50 anni che poi difficilmente riescono a ricollocarsi sul mondo del lavoro. E tra l'altro sono anche monoreddito, quindi avrebbero un impatto sociale e anche familiare non indifferente. Però speriamo che con l'aiuto sia della politica che dell'azienda di riuscire a trovare il giusto equilibrio per poter ricollocare questi ragazzi all'interno, come dicevo prima, del gruppo. In attesa che le parti si mettano d'accordo per una soluzione, Maglio Cocchini, amministratore delegato del gruppo ICO, si appella anche alla politica perché la crisi dello stabilimento ICO di Alanno è emblematico delle difficoltà di moltissime altre aziende. È comunque lo scoglio principale, oltre alla formazione dei 35 dipendenti cassi integrati, sarebbe soprattutto l'apertura di contratti di solidarietà con chi già lavora a tempo pieno negli altri stabilimenti del gruppo, che al momento non necessitano di personale aggiuntivo. Il settore della carta, che è fortemente energivoro, risente di questi problemi e non siamo i soli ad aver attuato piani di cassa integrazione o minacce di chiusura, come noi siamo stati obbligati a fare. Detto questo, oggi come oggi devo dire che nella ICO, cartotecnica che rimane coinvolta in questo discorso, non ci sono necessità occupazionali, quindi fare della solidarietà ha degli aspetti sia di disponibilità delle persone che lavorano a fare solidarietà con alcune persone di Alanno, dall'altra parte c'è questa attività formativa laddove è possibile che andrà gestita trovando le soluzioni anche economiche per fare questo. Grazie. 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 Grazie.